Musica Ma mi faccio io le domande perché cioè se dobbiamo lavorare con persone così che non leggono neanche i libri e che cosa che lavoro fai? Lavori in una casa editrice, santo stesso Sì, motologi E tu non leggi? Ma non me l'ho mai detto che... Non leggi? E lavori per una casa editrice? Ma mi han detto che non serviva Chi te l'ha detto? Un certo Leo Leo chi? Leo Fly Magazine Che cacchi di cognome è Fly Magazine? È un cognome strano però non farmelo dire perché lui si incazza sempre quando lo chiamo Ah si incazza sempre? Sì perché dice che leggo troppo Così? È tutta colpa di Leo? Questo Leo Fly Magazine? Sì è lui Sì è sicuramente lui È sicuramente lui? Sono sicuro Ah ok Bene Mi segnerò il nome e cognome e poi andrò E scommetto che ha una cresta? Sì Però la tiene solo la domenica Ma oggi è la domenica Infatti è mercoledì non ce l'ha Io credevo che stamattina fosse sabato Ma no è venerdì notte Buon appetito Tutti Tutti Grazie.